buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova serie di devops fields in questa serie parleremo di versionamento del software il concetto di controllo di versione nasce ben prima del suo utilizzo in ambito di ingegneria del software infatti veniva già usato per gestire l'evoluzione dei disegni su carta di progetti ingegneristici di vario genere in uno stesso disegno potevano esistere evoluzioni differenti in base alle necessità e versioni definitive venivano protocollati con un numero di protocollo accompagnato dalla data di protocollazione è chiaro come questo paradigma si adatti molto bene al mondo software in cui il codice è in continua evoluzione e poter tornare indietro ad una versione o sviluppare un ramo parallelo può facilitare il lavoro dei programmatori ecco quindi che sono nati diversi strumenti per controllare l'evoluzione del software tra cui troviamo tfs svn e git purtroppo però questi software si limitano a tracciare le modifiche del codice ma non ci forniscono alcuna informazione su quale versione dare al programma che viene generato da questo codice questo se non usiamo l'id del commit però questo id il più delle volte non è per niente parlante cerco di spiegarvi se sto sviluppando una funzionalità piuttosto complessa molto probabilmente farò vari commit durante la fase di sviluppo ma il software passerà dalla versione a di partenza alla versione b solamente quando la stessa sarà pronta per essere rilasciata la mancanza di uno standard una back process ha significato che ogni team sia dovuto pensare il proprio metodo spesso reinventando la ruota o addirittura ignorando completamente il problema e non versionando in alcun modo le proprie librerie quando si tratta di codice interno che senso ha dare una versione alla libreria non basta fornire sempre l'ultima versione agli sviluppatori non è più facile mettere tutte le librerie in una soluzione unica in modo da non doverle versionare come potete immaginare questa linea di pensiero porta a risultati catastrofici ed alcuni li ho visti di persona dll senza informazioni di versione passate via email dll messi in controllo di versione per essere sicuri che quella versione del codice venga fatta eseguire con quella particolare versione della dl solution così grosse che aprire tutti i progetti farebbe crescere il computer con tutti i problemi derivanti è chiaro che bisogna trovare un modo per gestire il versionamento una serie di regole e convenzioni che aiutino gli sviluppatori a decidere se vale la pena passare alla versione successiva di una dipendenza o meno la convenzione più comunemente utilizzata al giorno d'oggi è detta semantic versioning o per gli amici semver e trovate tutte le informazioni a proposito al sito semver.org link nella descrizione del video ora io vi faccio un risunto delle regole di base in pratica della semantic versioning la versione è composta da tre numeri separati da punti detti rispettivamente major minor e patch a cui è possibile accodare etichette e aggiungere altre informazioni utili per esempio versione 1.5.3 trattino beta la semantic versioning è una serie di regole su come incrementare i differenti valori di major minor e patch in base a cosa è stato modificato nel codice in poche parole incrementate la patch quando fate piccole modifiche e correzioni di bug che non influenzano come il mondo esterno interagisce con il vostro programma o libreria incrementate la minor quando fate modifiche o aggiungete funzionalità senza però rompere la compatibilità con versioni precedente ed infine incrementate la major quando fate modifiche che rendono parti del vostro codice non più compatibile con le versioni precedenti e quindi che richiederebbero modifiche da parte dei programmatori che dipendono dalla vostra libreria per esempio facciamo finta che ho una libreria che fa calcoli di conversione tra varie monete e la versione di questa libreria è 153 mi segnalano che una stringa ha un errore quando lo correggo creerò la versione 154 incrementando di 1 la patch se invece sto creando una nuova funzionalità per esempio aggiungo una nuova moneta alla lista di monete tra cui posso fare le conversioni dovrò incrementare la minor azzerando allo stesso tempo la pace e quindi diventa la versione 1 6 0 adesso per qualche strano motivo invertiamo l'ordine in cui passo i dati alla funzione di calcolo invece di essere quantità moneta di partenza moneta di cui vogliamo sapere il valore mettiamo le due monete come primi parametri e la quantità la passiamo per ultimo questa modifica romperebbe il codice dei nostri utilizzatori e richiederebbe loro di modificare il codice per questa ragione aggiorneremo la major azzerando minor e patch allo stesso tempo quindi la nostra versione diventa 2 0 0 ora che conosciamo alcuni dei motivi per cui conviene gestire le versioni del software in particolare delle librerie possiamo vedere come automatizzare la creazione della versione grazie ad un programma chiamato git version come potete immaginare dal nome git version sfrutta git quindi se ancora non state utilizzando git beh questo è uno tra i tanti motivi per aggiornare il vostro sistema di controllo di versione del software per ora ci concentriamo sull'installazione e sull'utilizzo in locale e in un prossimo video vedremo come utilizzarlo nella nostra pipeline di build nel sito di documentazione di git version questo viene definito semplicemente come uno strumento che ti aiuta ad implementare il semantic versioning sebbene questa definizione riassuma perfettamente l'utilità di git version per apprezzarlo appieno è meglio vederlo in azione procediamo quindi ad installarlo come vi dicevo prima voglio utilizzarlo in locale e successivamente vedremo altri metodi di utilizzo quindi per trovare le istruzioni su come installarlo vado nella pagina getting started e poi command line come vedete che potete installare git version con cioccolati e con homebrew io ora vi mostro come installarlo con cioccolati e per inciso se non usate ancora cioccolati non sapete che cosa vi perdete semplicemente apro powershell in modalità di amministratore e lancio il comando ciocco install git version punto portable trattino y e primo invio possiamo vedere che l'installazione è partita ed una volta completata posso confermare che l'installazione sia andata a buon fine lanciando il comando git version slash version un modo alternativo che non richiede l'utilizzo di un package manager nel caso non siete abilitati ad usarlo è quello di scaricare il pacchetto nuget git version punto command line e dentro trovate l'eseguibile questa procedura non è documentata da nessuna parte quindi prendetela con le pizzette ora che l'abbiamo installato sulla nostra macchina è il momento di cominciare a trarne dei vantaggi per vederlo in azioni creiamo un progetto dotnet core con la CLI niente di esotico una semplice console application facciamo dotnet new console e vediamo che viene creato il programma e poi con dotnet run lo eseguiamo e vediamo il classico hello world ora per usare git version abbiamo bisogno di git quindi inizializziamo un repository con git init andiamo su github punto com slash github slash gitignor e scaricchiamo un gitignor adatto al nostro ambiente scegliamo viso studio e lo salviamo direttamente nella cartella del progetto togliendo tutto quello che sta prima del punto gitignor ora possiamo fare git add e git commit meno m first commit ora abbiamo un repository con almeno un commit proviamo ad eseguire git version possiamo da subito vedere che il commando torna una serie di informazioni sulla versioni prima di tutto come default propone la versione 0.1.0 alcune delle informazioni interessanti che possiamo trovare nella risposta sono branch name che fornisce il nome della branch lo sha del commit così come la versione corta in short sha full send ver che ha questo curioso più 0 alla fine che vedremo tra un po a cosa serve ed informational version che fornisce una label completa con tutte le informazioni del commit ora apriamo vs code e facciamo una piccola modifica salviamo il file e facciamo commit ora proviamo a fare di nuovo git version vediamo che la nostra server non è cambiata ci troviamo sempre ad avere 0.1.0 ma il valore di build metadata cambiato è passato da 0 ad 1 ed è in particolare questo valore che viene utilizzato per comporre full send ver creiamo un tag con git tag e poi proviamo a lanciare git version vediamo che la send ver diventa 0.1.1 vedremo nei prossimi video quali sono i modi di lisa default e come configurarlo e vedremo anche come utilizzarlo nella nostra pipeline di cicd per ora è tutto se vi è piaciuto il video mettete un like per avere altre pillole su devops iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati alla prossima alla prossima